si chiama a italia chilo 8 lima vittor papa italia chilo 8 lima vittor papa ok papa delta i capotecchi tq 59 di meco la città lì città america bene valter 5 9 papaletta 958 a una domenica prego e reggita italia vischi 8 romeo hotel delta rosa romeo delta italia rischio romeo hotel delta romeo hotel delta mauricio a te 59 papa delta 958 si perfetto marco 59 carli giu carli giu ciao grazie per catanzaro buona domenica sicuro da parte italia zelanda trae golf november golf l'italia whisky sette eco bravo eco alfa uniform hotel 59 mike november questo è l matteo 59 ragusa 59 romeo gol perfetto libri fortissimo anche te ciao buona domenica e w2 giuliet papa bravo l'italia unico unico forza sierra lima allora italia unico 59 mai november roger matteo 59 tangosia torino perfetto libri forte 1 più 2 giuliet papa bravo roma 371 c'è come a testa italia italia zulu 1 uniform sierra oscar uniform sierra oscar roberto buongiorno buona domenica 659 roma 371 prego roma 371 ti passo 59 gol fico perfetto grazie buon anno ciao cq mande basse italia cq mande basse italia cq mande basse italia italia uniform zero canada norvegia italia italia uniform zero charlie november india roma 371 cq mande basse italia tagli a chilo sei papa tango locale ricca fa prende bata l'ordine o teodoro c'è il do se lo penso che il problema ore 11 59 roma 371 con l'u2 di fred o dorio in capo se itzi a ca e c detti lo sei papa tangosia del 59 ancuna al novembre ora il Z chiama il K1 Bravo Papa Lima K1 BPL lo vada a chiama K1? Bravo Papa Lima Manca Popolare Lavoro anche se sono dentro d'ordine Ancora il K1? Bravo Papa Lima Bravo Papa Lima Ciao Giuseppe, i Z7 Zulu Chiro Vittoria i Z7 Zulu Chiro Vittoria 5-9 Bravo Alpha Bene per Bari Bruno, ciao buona domenica 6-5-9 Novara Ok 5-9 Novara, ciao grazie Grazie a te, quale Z chiama il K1 Bravo Papa Lima Novara K6 hotel Lima November Il K6 Lima, questo qui Ascoli Piceno e Moltevitatore HLN, buongiorno 5-9 Novara Si, perfetto, Alpha Papa, confermo 5-9 a Pondalizzi Ciao, un attimo Un attimo, K6 mi ascolti? Sì, non abito più più 60-10 K6 mi ascolti? Bravo Papa Lima Novara 10 minuti metto a lettere? Bravo Papa Lima Un attimo, se posso collegare il K6 Un attimo Il K6 avanti Sì, non abito più 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 19 radio Giulia Quebe 19 radio Giulia Quebe, 5-9 Firenze Firenze, qua mi dà Pappatango vediamo se il collo è giusto, il Z5 e come vuol dire, ma è corretto? corretto, Pappatango è il vecchio QTH confermo Firenze ok confermo Firenze india 2-5, ecco, bravo Lima, Firenze Italia Veneto CQ bande basse, india 2-5, ecco, bravo Lima india Victor 3, vittima Xiera vittima Xiera, vittima Xiera, placa 5-9 in Firenze QSL, 5-9 con Fosca thank you, chiosè, india 2-5, ecco, bravo Lima Fosca cibata Xiera CQ Italia, CQ Italia, Italia Zoe Galantô e fa quel codone qui cibata Vittima 5-9 Golf Radio 5-9 da India, Mike, 7-6-5 K di tutto, ciao, 73, la sozza stessa di zona 1 Italia Whisky 1, IW1, Delta, Quebec, Santiago Delta, Quebec, Sugar, ciao, Davide, 7-3, 5-9 Golf Radio 5-9 Torino, il tuo nominativo Italia, Kilo 5 Radio, Lima Papa Radio, Lima Papa, Roger 5-9 Torino, 95 K di tutto, ciao, 73, 4Z, K5 Radio, Lima Papa, Grossetto, chiama La sezione zona 4, Italia 4 Italia 4, Kilo, Mike Whisky Italia 4, Kilo, Mike Whisky, pubblico, buongiorno, ben risentito, 5-9 Golf Radio Italia, Kilo 5, Radio, Lima Papa, Roma, Livorno, Pisa Grazie mille per il moltiplicatore di Grossetto, ciao, buon conte Grazie mille per il moltiplicatore di Grossetto, ciao, buon conte Grazie a te, 73, Quarevete, K5 Radio, Lima Papa, Grossetto Scusa, non ci siamo già sentiti, cambio niente grazie a te buona giornata tranquillo allora italia 4 charlie x ray chilo poi mi confermi il preciso per favore chilo 4 forse chilo vediamo un po ti rimetto a me ora in via zulu 8 charlie costa si racconta cq contest cq contest cq contest italia chiamati azzurro 8 com o genoma zona italia azzurro 8 charlie costa si racconta chiamati azzurro 8 com o genoma e con florida del san michele 59 charlie lima 506 grazie per una 507 3 italia quebec 9 yankee vittor cuore vittor charlie con te cq italia cq conte tz2 bravo vittor charlie conte cq italia buongiorno gamma buongiorno E' un'altra cosa. chilo delta x india 7 chilometro domodossola e xilofono italia giulo 7 e chilo del paese da 8 e con florida delta grazie ciao franca stai su una frequenza molto 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 affollata non so se hai copiato bene ripeto italia 07 chilo delta x ti passo 59 tangualpa conferma il tutto chico franca chico franca chilo delta x franca chilo delta x Grazie a tutti 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 Giulia Grazie a tutti 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 Buon divertimento Grazie a tutti 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 India Grazie a tutti